Tavoli sparecchiati con sedie tirate su ad ogni rotatoria dell'Aquila, ma anche nelle vicine frazioni. È la silenziosa protesta messa in atto oggi dai ristoratori che si sono uniti in una sorta di movimento, ristoratori a cu contro virus. L'obiettivo del flash mob è tenere accesa la luce sul futuro delle attività che è sempre più incerto, un modo pure per spingere la politica forse a sostenerli nella loro battaglia, a fare di più. Un segno di chiara resa poi, un grande cartello con la scritta Game Over, dopo aver consegnato le chiavi delle attività al sindaco Biondi nei giorni scorsi, l'ennesimo segnale è questo per dimostrare che la sofferenza è la sofferenza di tutti e per dire ai clienti chiaramente che il comparto probabilmente non riaprirà troppe difficoltà. Oggi stiamo manifestando qui all'Aquila, nelle principali rotatorie della città. Perché stiamo manifestando? Perché sì, è vero che sono arrivate le linee guida che in realtà sono abbastanza morbide per poter riaprire. Teoricamente potremmo riaprire da lunedì 18, quindi da dopo domani. Il problema sono i 70 giorni precedenti, cioè da quando abbiamo chiuso le nostre attività e non abbiamo avuto nessun aiuto concreto da parte del governo. Se ne è parlato tanto di possibili promesse, del decreto liquidità, di tante cose. Purtroppo in realtà le spese sono continuate ad esserci perché le spese fisse e le bollette, per esempio, sono continuate ad esistere e il nostro problema è che non abbiamo liquidità anche per ripartire. Quindi stiamo manifestando per i 70 giorni che ci hanno fatto stare chiusi e per quello che sarà che comunque è un'incognita. Noi chiediamo ascolto, attenzione, attenzione per la nostra situazione che riguarda noi come imprenditori, riguarda i nostri dipendenti che non tutti hanno ricevuto la cassa integrazione, riguarda i nostri fornitori che lavorano col nostro lavoro e riguarda le famiglie di tutti, tutto quanto l'indotto. Parliamo a livello nazionale di migliaia e migliaia di persone. Quindi è una situazione molto grave che va affrontata in maniera seria, netta, decisa e diretta. Grazie.